Un ciao a tutti i vederosi e benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia della Fratelli Cozzi che trovate a Legnano in Viale Toseglia al numero 46. Tantissime proposte troverete qui, io ne ve ne presento alcune ma visitate il sito per vedere tutte le altre. Alle mie spalle una splendida Alfa 124 Spider, vi invito a rimanere incollate al televisore fino alla conclusione perché concluderemo con altre Spider un pochino più antiche, davvero spettacolari. Ed ora iniziamo subito questa carrellata di vetture con Lancia Y, una Lancia Y 1200 Gold 5 porte con anche i sensori di parcheggio posteriori, una vettura del 2016 con 0 km a 11.600 euro. Proseguiamo con 500C, quindi 500 Cabrio, 1.200 Lange, vettura con 16.000 km a 11.900 euro, vettura del 2015, 500L, c'è un vasto assortimento, davvero tutti i colori che desiderate, tutti gli allestimenti. Questa è una Popstar, vettura immatricolata nel 2015 con 22.154 km proposta a 13.900 euro. Stesso discorso anche per 500X, 1.600 Multijet, 120 cavalli, Popstar in questo caso, proposta a 17.700 euro, vettura con 12.000 km immatricolata nel 2015. Ed ora proseguiamo, concludiamo naturalmente la famiglia 500 con la 500 normale, vogliamo chiamarla così, via un 1.200 Lange, km 0, vettura immatricolata nel 2016, proposta al prezzo di 12.400 euro. E proseguiamo con la Spider che avete visto in inizio di trasmissione alle mie spalle, naturalmente è una Fiat 124 Spider, 1.400 Multijet, vettura anche questa a km 0, prezzo di vendita a 26.900 euro, vettura immatricolata settembre del 2016. Introvabile, qui da Cozzi, trovate anche 124 Spider, naturalmente in pronta consegna. Ed ora proseguiamo con una vettura adatta anche a neopatentati, un appunto 1.200 8 valvole, 5 porte Lange, vettura con circa 20.000 km, dell'aprile 2016 a 9.300 euro. Ed ora vediamo una vettura davvero straordinaria, una 595, quindi Abarth, 1.400 turbo, T-Jet, 160 cavalli, turismo, vettura immatricolata nel 2015 con soli 7.500 km a 17.900 euro. Ed ora proseguiamo con BMW, 320 diesel, Efficient Dynamics, Touring, quindi la versione Station Wagon, modem. Prezzo di vendita a 28.700 euro, vettura immatricolata nel 2015, che ha percorso solo 36.000 km. Cambio automatico, navigatore, cruise control, sono alcuni degli accessori che arricchiscono questa splendida 3.20 diesel, Touring. Il prezzo è 23.400 euro, come leggete, una vettura che ha percorso circa 53.800 km. Immatricolata nel 2012, per cui rispetto all'età, una vettura che ha percorso pochi km, in ottime condizioni, vi consiglio naturalmente di venire a vederla personalmente. Sempre cambio automatico e navigatore sono alcuni degli accessori di questa splendida 3.18 diesel Touring Luxury. I chilometri? Pochissimi, veramente pochissimi. Prezzo di vendita a 41.300 euro per una vettura immatricolata a fine ottobre del 2016, quindi con pochissimi mesi di vita. Naturalmente splendide condizioni perché è una vettura praticamente nuova. Sempre per quanto riguarda BMW, velocissimamente vi dico che c'è un vasto esortimento, una 430 diesel X-Drive a 44.900 euro, una 216 diesel Active Tourer a 23.800 euro, scusatemi se corro ma non avrei il tempo di presentarvi tutto, una 420 Gran Coupé Executive a 34.900 euro, una 216 ancora al prezzo di 27.400 euro, tutte vetture immatricolate da pochissimo con pochissimi chilometri. vi invito naturalmente a venire qui personalmente. Ancora un 118 diesel, sempre vettura con pochissimi chilometri, pensate 17.900 a 25.100 euro, e anche un X3 X-Drive, quindi 4 ruote motrici, 2.000 diesel e letta, al prezzo di 22.400 euro con pochissimi chilometri, circa 50.000. Vasto assortimento anche per quanto riguarda Mini. Vi faccio qualche esempio, Mini 2000 Cooper Diesel Clubman, al prezzo di 26.900 euro, pensate che ha percorso solo 2.200 chilometri, quindi davvero pari al nuovo in questo colore molto particolare. Oppure una Mini 1600 Cooper Diesel Countryman, questa vettura ha percorso circa 15.600 chilometri, è del 2016 ed è proposta a 22.900 euro. E ancora una Mini 1500 One Diesel, immatricolata a dicembre del 2016, con pochissimi chilometri, davvero nuova questa vettura, a 21.400 euro. E ancora una Countryman, una Mini 1600 Cooper Diesel, immatricolata sempre nel 2016, con pochissimi chilometri, poco più di 14.000, venduta a 20.800 euro. Ancora una vettura per neopatentati, un Fiat Panda 1200 Lange, vettura del 2015, con pochissimi chilometri, a 7.900 euro. E poi proseguiamo nel campo dei SUV, un Sorento 2002 Turbo Diesel Stop & Go, 29.900 euro. Ancora uno splendido fuoristrada, un Discovery 4.000 Turbo Diesel V6 HSE, vettura immatricolata nel 2011, con 68.000 chilometri, proposto a 31.900 euro, davvero in splendide condizioni. Andiamo in casa Jeep, ne trovate sempre un vasto assortimento, naturalmente di Renegade, e un 1.600 Longitude, prezzo 19.900 euro, vettura praticamente nuova, dell'ottobre 2016. La trovate nel colore grigio e la trovate anche nel colore bianco, sempre un 1.600 Multijet, 120 cavalli business, a 22.900 euro, in questo caso appunto chilometri zero. Una sportivissima, una TT Coupé 2000 TFSI S-Line, 15.700 euro per avere l'opportunità di guidare questo sogno di vettura, immatricolata nel 2008 con circa 90.000 chilometri, veramente una splendida occasione per voi. E qui vedete un Opel Antara, un 2002 turbodiesel, 163 cavalli, start and stop Cosmo, quindi la vettura accessoriatissima, 17.300 euro il suo prezzo, vettura immatricolata nel 2014 con davvero pochissimi chilometri, circa 13.000, quindi come come nuova. Ancora 500L Multijet Popstar, 13.900 euro, ve l'ho detto prima c'è un vastissimo assortimento per quanto riguarda i colori. Nissan Juke, 1.500 DCI al prezzo di 15.900 euro e naturalmente proseguiamo con Meriva. Opel Meriva 1.400 a 11.400 euro del 2015, ancora Opel, si tratta in questo caso di Mokka, 1.700 turbodiesel Cosmo, 17.800 euro, vettura del 2015 con circa 29.000 chilometri. E vediamo anche due Volkswagen Golf che sono sempre molto molto richieste, vettura aziendale, anche in questo caso pochissimi chilometri, praticamente una vettura nuova del 2015, ma davvero venite a vedere voi coi vostri occhi chilometri, 18.900 euro, una vettura, una Golf Variant Business, 1.6 turbodiesel Comfort Line, ed ora anche una Volkswagen Golf 5 porte, un 1.4 TSI Comfort Line Blue Motion, a 15.800 euro del 2013, ma con soli 23.700 chilometri. Panda 1.200 chilometri, una vettura immatricolata nel 2016, proposta a 9.500 euro, Panda 1.200 easy, e proseguiamo con ancora una Fiat, in questo caso si tratta di una 500 1.200 S, quindi la versione sportiva, 25.000 sono i chilometri, vettura immatricolata nel 2015, proposta a 9.500 euro, in questo colore blu-azzurro, veramente splendido, metallizzato, con i cerchi in lega, insomma davvero una bella vettura. Mini 1.600 Cooper S Cabrio, come vedete dalle immagini, proposta a 10.900 euro, vettura che è stata immatricolata nel 2008, davvero molto molto particolare questa Mini. Proseguiamo, ancora in casa Fiat, sempre con Panda, una 1.200 sempre easy, 8.900 euro, il prezzo è una vettura che ha percorso circa 12.000 chilometri, questa è adatta anche ai neopatentati, ecco importante anche questo, insomma ci sono delle proposte anche per i neopatentati. Kilometri zero, una Volkswagen Polo 1000, Trendline, 5 porte, vetture immatricolate nel 2016, a 13.300 euro. Io non ve li enco gli accessori perché le vetture sono davvero tante e non avrei il tempo per cui vi invito a venire qui personalmente. Qui troverete anche una Hyundai, una i30 1.600 turbodiesel, una versione speciale, col cambio automatico, vettura immatricolata nel 2014, proposta a 13.900 euro, con circa 65.000 chilometri. Ed ora proseguiamo in casa Renault, una Capture, anche questa è vettura molto richiesta, un 1.500 turbodiesel, 90 cavalli, start and stop, live, come accessori a veramente tantissimi, che potrete scoprire direttamente qui, del 2015, proposta a 14.600 euro, vettura con circa 43.500 chilometri. Proseguiamo ancora con una Opel, una corsa, anche questa adatta anche ai neopatentati, infatti a un 1.200, 5 porte in Joy, vetture immatricolate nel 2015, compensate solo 11.300 chilometri, quindi una vettura praticamente nuova, ma ha il prezzo di un usato, perché 8.800 euro sono davvero pochi per questa splendida Opel Corsa, in ottime condizioni. Bene, vi avevo preannunciato che avrei chiuso con delle vetture davvero particolari, quattro vetture Spyder di casa Alfa Romeo, del resto troverete qui anche un museo, fratelli Cozzi, Alfa Romeo davvero spettacolare, andate a visitare il sito per avere l'opportunità di prenotare eventualmente una visita. Questa è una Spyder 1.300 del 72 e viene proposta a 23.900 euro, in questo splendido, classico colore rosso. Preferite il nero? Eccola qua. Una Spyder 1.600 in questo caso, del 1.989, con pochissimi chilometri, a 12.500 euro. Davvero in ottime, in ottime condizioni. Se volete salire un attimino di più per quanto riguarda la cilindrata, qui avete uno Spyder 2.000 quadrifoglio verde e questa vettura è proposta a 14.500 euro ed è immatricolata nel 89 con 45.700 chilometri, quindi davvero pochissimi. E concludiamo con un altro Spyder, è sempre una vettura storica, una vettura 1.300. Questa è immatricolata nel 73 e viene presentata al prezzo di 18.900 euro. Sono davvero dei sogni, dei sogni però che potrete realizzare, per cui se vi interessa questo tipo di vettura, avete visto dei prezzi davvero straordinari, vetture in ottime condizioni. L'importante è venire qui, presso la Fratelli Cozzi, a Legnano, in Viale Toselli, al numero 46, per la vostra vettura a chilometri zero aziendale oppure, perché no, per una vettura da amatore. Grazie a tutti.